Sono filmati che hanno acquisito molto popolarità su internet, principalmente attraverso siti come YouTube, Facebook e Instagram. Oggi vi svelerò 5 di questi che sono in realtà video fake. In questo video, che su YouTube conta quasi 5 milioni di visualizzazioni in totale, si vedono dei ragazzi che si stanno esercitando a baseball, su dei tappeti elastici, messi a posto in determinati punti per non far cadere mai la palla. Ma questo video è fake, perché se guardiamo con attenzione il movimento con cui il ragazzo colpisce la palla, possiamo notare che è sempre uguale. Quindi il video è frutto di un grande lavoro con un programma di editing. Il fatto più sorprendente di questo video è che conta più di 15 milioni di visualizzazioni in totale. Infatti, questo video è chiaramente fake, perché se si guarda attentamente l'orso e anche la reazione del ciclista, si capisce subito che quest'ultimo è fake. Questo video, girato da un ciclista con una GoPro, mostra quest'ultimo che sta facendo un giro in mountain bike, ma ad un certo punto sbucca dal nulla un orso che inizia a rincorrerlo. Questo video penso che molti di voi l'abbiano già visto. Infatti, conta più di 35 milioni di visualizzazioni su YouTube. In quest'ultimo, possiamo vedere un ragazzo che si putta da una scogliera, ma si ritrova faccia a faccia con uno squalo bianco. Ma questo video è fake, perché lo squalo non c'è mai stato. Il video dello squalo è stato preso e poi, grazie all'aiuto dell'editing, è stato inserito nel video dal ragazzo che si duffa. Comunque, anche io la prima volta che l'ho visto, ho pensato che era tutto vero. Comunque, anche io la prima volta che l'ho visto, ho pensato che l'ho visto, ho pensato che l'ho visto. In questo video, 4 soldati africani si stanno godendo del tempo libero, fino a quando non arrivano a Scimmia. A quel punto, uno dei soldati dà in mano la Scimmia e un fucile, ma quest'ultimo inizia a sparare contro i soldati. Ma questo è chiaramente un video promozionale per il film uscito nel 2011, L'alba del pianeta delle Scimmie. Questo spiega perché è così realistico e curato nei miei limiti dettagli. No, 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 no! Questo video penso che tutti voi, almeno una volta su YouTube, lo avranno visto. Infatti, conta più di 90 milioni di visualizzazioni. Dove si vede un ragazzo che si dimeno, si strappa i vestiti e fa cose assurde solo perché i suoi genitori le hanno cancellato il profilo di World of Warcraft. Questo video ha ottenuto così tanto successo perché la reaction del ragazzo ha sconvolto ogni persona che ha guardato il video. Ma tutto il video è una messa in scena dai due fratelli, solo per fare scalpore su YouTube. Grazie a tutti!